io andrei quando se la senti vai intanto vediamo se c'è il 5 stelle non ce l'abbiamo adesso può essere qualsiasi dobbiamo vedere il simbolo degli armoni e se il simbolo degli armoni o è bronia o è lei mi stanno andando a piangere giù ok l'albero ok amber 4 stelle 78 79 80 no no questa cazzo di meco più non la nomina e più arriva però ci sono altre tre singole vai claudia credici te sei molto brava in questo gioco uno due tre quattro no tre no tre no tre è 77 sono me qui eccola no no invece qua eccoci qua guarda se potessi saltare buttarmi dal dirupo in questo gioco l'avrei fatto no no per carità su via piuttosto brontola adesso la vedi dille qualcosa dille sparco la cessa c'è solo cessa e mettite le scarpe scostumata forse belt ecco forse forse bene perché comunque un'opera di bene per gli anziani va fatta esatto esatto vai andiamo anche riccardo se l'ha curato armoni in arrivo vola oniglio infame ma si può io ti giuro riccardo per il complesso ti spedisco un peluche di pompon di ora grazie per il falo su tiktok ti spedisco ti spedisco un peluche di pompon a casa ok vediamo uomini forti fini forti uomini deboli ok una pull 75 76 77 78 79 no no basta questo comunque questo essere è sintomo del tuo matrimonio fuori dal nostro matrimonio con alice questa è la carmata divina per il matrimonio extra coniugale alice non so se c'è questo momento questa non dovevi non dovevi farlo quando vuoi non messo nulla ma sono già delusa io durante la diretta pokemon molto bene allora 5 stelle ce l'abbiamo totale vero ok dai vediamo che cosa abbiamo allora intanto è prima l'ottantesima e non è niente di male allora 71 72 73 74 75 eccoci al soft 76 io e Liliana alve 77 78 l'arma di meco l'arma di meco no vabbè un'arma nuova erudisce una niente male la puoi dare a argenti tra l'altro io non avevo proprio armi erudisce io ero messo malissimo quindi ma ti posso dire secondo me esce un altro 5 stelle in queste molti e un'altra molti un'altra molti andiamo a pt32 e poi ci portiamo a casa almeno la signorina brogna oh aspetta te l'avevo detto te l'avevo detto che c'era un altro dai velto brogna io me lo sentivo velto brogna velto brogna velto brogna dai 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 o sono anche clara o sono anche i meco dai su 33 34 35 36 37 38 39 l'ultima quara no mi sclicata una dov'è ma quante molti erano io non ci posso credere ti giuro io lo qui sto gioco mi crea un profilo nuovo io cambio nome cambio identità cambio tutto io voglio diventare un'altra persona il personaggio che ti piace siamo arrabbiati siamo arrabbiati si seleziona siamo arrabbiati il personaggio giusto oh eccola abbiamo trovato il 5 stelle si l'abbiamo dovuta faticare ma è arrivata la signorina bronia 64 ci stiamo avvicinando al soft eh early ragazzi il primo early di questo banner oddio oddio early che poi oh cioè siamo a pt 55 non è che siamo così early c'è la possibilità del pt 60 io dico solo questo allora si spera sia sparkle perché si sono persi tutti se no abbiamo detto in alternativa sì early si scrive così in alternativa abbiamo detto aspetta fammi rileggere bronia valte jancin ok questo è 55 56 57 non un bel segno comunque la light con 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 bronia 58 59 pt 60 no niente ci ho creduto a sto giro niente 61 ragazzi questo banner non si vince le opzioni sono due o ci hanno nerfati o è troppo forte 14 io mi lancio comunque domenica ve lo dico eccola easy niente francia easy trovata va bene di nuovo dov'è i gabbani ci riserva i gabbani dov'è 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 olè perfetto 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 oh molto bene è stato più veloce del previsto bella ecco questa quanto è carina quanto è carina let's go sescua la busca ma poverino anche lui ha perso il 50 e 50 let's go dai un 50 e 50 si può vincere oggi intanto ce l'abbiamo intanto ce l'abbiamo non si va oltre se ne può vincere uno per favore subito ora 65 almeno gli avanzano 9 singole armoni armoni un piccione 66 67 68 sì sì ne abbiamo vinto uno non ci si deve oh mio dio ragazzi mi sembra di aver partorito oggi mi sento distrutta 84 andiamo a 84 ok 5 stelle c'è intanto non si va oltre io smetto di guardare va bene dobbiamo dire vai avanti noi come funziona sì madonna che angoscia così però veramente ho da un mal di stomaco va bene 75 ok è liscia non c'è niente dobbiamo vedere il simbo dell'armoni cosa? posso aprire? posso aprire? sì si puoi aprire basta questa bambina oh però i nissomulti aspetta che c'è il doppio io manco a dire simbo dell'armoni in tempo vabbè c'è il doppio però okram perché hai ricominciato a giocare il gioco si premierà quindi credi nel potere delle carte vai vai c'è quella bambina povero okram ma poi più che altro ce l'hai e due cioè nel senso bambina per un bambino scrive Riccardo ma smetti riccardo mamicere grazie eccola 74 ragazzi early pifi 74 vince il sì okram hai perso pure punti canale pagliaccio vabbè non ho messo i 20 cazzo che cazzo sono 20 punti canale vabbè eccola sparkle ce l'abbiamo sta in fame bellissima andiamo vabbè andiamo acqua che pd sei non sappiamo niente 70 80 80 infatti 5 stelle speriamo è ora 80 siamo adattati hai ragione andiamo a bronia andiamo a bronia 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 io ti installo no non dirlo però worth avrebbe senso bronia 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 adesso viene il simbolo dell'abundance no la like con di belt peccato non è lui però vabbè ci sta se dovessi bullare kafka gliela puoi dare no no ragazzi è matto ok va bene allora il banner è giusto oh oh 3 5 tene oddio e se adesso c'è doppio esce sparcole e poi la verità è che avevo il garantito ma se c'è argenti ma è vero si no si perché argenti ci si perde 50 e 50 da quanto eccesso ok è garantito ma dov'è ma dov'è è garantito ragazzi qualcuno ce l'ha fatta ragazzi il primo 50 e 50 vinto io non ci riedo multine 5 stelle questa multine 5 stelle let's go almeno non esco dopo la 70 ok no meno male meno male almeno quello e no non è scontato l'ultima volta a chi è che a francia è uscita no chi è che è uscita la 72 ma io non ho capito come lo noti dalla destra ma si vede benissimo c'è un'ombra più più ma e quando dico io che c'è l'arcobaleno non c'è quando lo dite voi sì allora ricordo non iniziamo con questi discorsi non ci lasci sceme che già lo siamo allora questa era 62 2 avanti 63 64 65 66 67 68 68 è lei è lei il biglietto quando se la senti guardiamo sto biglietto guardalo c'era l'ecco del biglietto c'era non è vero ricordo si vedeva si vedeva ora ti riguarderai il video su youtube a rallentatore ma non hai capito io ho visto dieci volte quel video che ti ho fatto guardate la differenza non ho vista mai questa differenza mi faccio fermi tutti c'è la betta ciao betti ciao 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 betta mi ha portato una sparkola a casa grazie vediamo dai questa era 61 no che cazzo dico 60 62 61 72 73 io mi sento pazza brava betta l'ho fatto vincere bravissima c'è un po' di di kart che ho sulla sassata del sole allora andiamo piti ok forse l'ho visto si dai un pochino si vede muori poverino allora 71 72 72 73 74 75 no smettila qui c'è bronia 77 78 bronia yes l'ho detto l'ho detto che qui usciva bronia l'ho detto mamma mia mamma mia l'ho detto subito è uno si 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 via e penso l'avessi già a sto punto sa cosa ti dico io invece pullare l'hai due di sparco l'andrei nel banner di jingwan e troverai l'arma di bronia e poi a qui punto si fa festa o ce l'hai già l'arma di bronia eh no eh top e uno sta subito qua si eccola ce l'abbiamo oddio oddio armonia 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 eccola che culo riccardo vaffanculo io dopo lo perdo di sicuro questo l'ha trovato 87 multi de 5 stelle controlliamo il ticket eccolo la con il bordo qua è arcobaleno e si va eccoci qua 75 era questa 76 77 78 79 quanti più nearing 80 eccola qua l'ha detto vado 5 stelle c'è 5 stelle c'è dobbiamo sperare di vedere il simbolo dell'armonia e che sia quello giusto soprattutto soprattutto 65 questa 66 67 68 69 oddio 70 ragazzi anche la light con dopo la 70 71 72 stai cicando c'è 73 73 70 70 69 60 67 65 65 bay 300 70 shit Grazie a tutti.